Benvenuti sul canale Le News Chevi Tu! Oggi parliamo del matrimonio tra Amadeus e Giovanna Civitillo, avvenuto ieri 11 luglio, finalmente in chiesa. L'annullamento del vecchio matrimonio di Amadeus è arrivato e quindi lui ha potuto sposare Giovanna anche in chiesa, oltre che al comune, dove si sono sposati già dieci anni fa. Il matrimonio è avvenuto in una chiesetta di Roma in maniera molto semplice. I due hanno fatto un'intervista esclusiva su Oggi con tutte le foto del matrimonio e hanno detto che volevano una cerimonia intima con pochi amici e solo i familiari. Né lui e né lei infatti sono stati mai amanti delle grandi feste, cerimonie pompose, vistose. Su internet mi sa che si trovano le foto di quando si sono sposati civilmente, bisognerà aspettare che Schenidico nel prossimo numero della rivista Oggi. Grazie a tutti.